bella tutti ragazzi dallo shock team qua io ho shock e ben tornati sul nostro canale e siamo qui oggi in webcam live con il blu d'ietti guardate il microfonone che bomba stiamo tentando una mob già in molte partite che facciamo però capita sempre qualcosa che ci fa venire un nervoso poi dopo tutto ho un'arma non silenziata e quindi c'è della serie facciamo i pro facciamo comunque ora provo e dopo cambio arma non lamentatevi se dopo alla fine mi arrabbierò prenderò l'epicet e dopo e magari la caccerò comunque abbiamo già fatto diversi sclerini magari metteremo dietro le quinte a questo video se magari volete vedere proprio si pensano metteremo sapete quando non è giornata da video non è giornata da video ecco e quindi viene deciso che magari mettere una cosa nuova non ti riesce mai ecco vediamo un po qua in parità molto interessante diego sta trovando molti nemici che trova peter grip peter griffin è lui ragazzi però devo parlare poco perché devo sentire anzi meno se gli diamo una tacchina una tacchetta di a ecco mi ho perso c e poi ditele non fai delle mob veloci c'è gente che mi dice che sono lente ma ragazzi ma vedete che non trova nemici non c'è nessuno c'è stato giallo comunque per la mappa che nessuno guardate la dove era quello ne uno qua sotto che avrà ora 50 anni ecco adesso vengono da qua questo qua risposta eccessiva con lanciagranate guardate in basso la che lanciagranate già già momentane se non mi ha ucciso con lanciagranate ma già andare in giro vuol dire che con lanciagranate e poi mi spawna qua mi spawna è inutile è inutile devono mettere il timer come in medal of honor in battlefield quando muori in ogni modalità non si può ma se no fai un gioco con gli spawn fatti bene guarda questo con assassino addirittura vai a cagare vai assassino ti metti voglio vedere cosa c'entra assassino vaffanculo va guarda come mi uccidono ma come si fa a giocare un gioco cosi ti passa proprio la voglia ti passa ti passa proprio a fare un commento e ti passa la voglia perchè non mi raccatello sul canale ecco perchè ti passa la voglia di giocare e di fare il gameplay mi sa che questo se lo vedete ripeto se sarà l'ultimo video che facciamo su 1v3 perchè ragazzi veramente arroti i coglioni non lo spacchiamo in 4 con noi su 2.2 sperando che sia sempre bello come gioco tanto a meno dietro ti sono da parte di gardia ti racconti i codi e poi sei un pezzo di codone che vanno la np7 io sono l'np7 guarda lola ecco è lì che è giusta il corriere ma guardalo guardalo guarda lo guarda lo ditemi che è forte uno che usa il model in quella maniera lì all'arla c'è anche un cover in cielo andiamo qui giocando di squadra la sicurezza di questo posto con un cover in cielo è proprio nulla momento serietà un attimo perchè non trovo nemici di solito spavano ma non spavano sto facendo le cuffie ogni volta che togli le mani dal joypad dal joystick da come cazzo si chiama trovi una una moltitudine di nemici trovi un jumbo di nemici guarda stiamo prendendo l'alpha metto lì sotto il tuo spawnore un po' uno ok stai iniziando adesso vediamo un po' perchè quando hanno l'ora no si gioca molto mad guarda la mamma guarda la mp7 ragazzi fa miracoli anche anche i peccini io scapparei poi ce n'è un altro mi sono contento mi sono contento mi sono contento guarda la 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 ma ma che culo non so come ho fatto scappa però possiamo anche andare indietro possiamo anche andare indietro qua c'è uno ragazzo lo sente il fiato di lo sciocca ma no eh una kill era comoda eh mamma mamma signora perchè secondo occasione che culo che ha Diego ragazzi se a me mi spaccavano in un quarto con quel caso lì dai Diego dai Diego cazzo lì ho voto niente vabbè è già buono spara spara spartalo sul muro per uccidere porca crone ma c'è l'altro c'è l'arunna basta basta ecco vai stai out mamma dio è morto ma un po' di culo eh un po' ho visto ho visto stai qua stai qua stai qua che si muore mamma mamma dio scappa Diego scappa cantera cantera come un maiale cantera mamma dio non guarda non guarda mamma dio mamma dio uuuuh 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 sono morto sono morto mi vengono dietro mi vengono da dietro ma ecco la 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 come si chiama quello lì mattiak 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 mamma no no gli spawn invertiti attenzione le palpitazioni si fanno sentire mamma mamma diego so che culo ragazzi c'è diego diego non parla più quando diego non parla mamma diego scappa 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 va mio va mio va mio va mio scappa scappa dai diego dai diego piano 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 non so quante quante me ne mancano cioè preoccupati però tanto la partita è lunga vai con calma ma va che ha esplorato uno la bravo porca troia messaggio non abbiamo munizioni ma la prossima che potrebbe essere la mob ne manca ne manca una o due ne manca non so sicuro va la eccola no assist perché assist era questo era questo non lo sentivo che era questo sono un po' agitato ecco potrebbe essere questo sii mobile live ragazzi diego c'è ragazzi diego c'è su che fa culo uccidimi anzi facciamo il flowless facciamo il flowless partita perfetta no facciamo il flowless sono morto 20 volte le risultanze di diego guardate sono morto 20 volte sono morto chiediamo di stare registrando comunque di abbono si è stata quella quella carata la un po' fatta la cazzo di cane e ora andiamo a recuperare le kill camperando che ho fatto come avendo un po' in giro per la mappa tanto comunque vedete se uno vuole riesce a giocare anche correndo però quando sei lì a un passo per amore quando hai il mec che ti osserva così che ti vede che quando sai che ti farà parlare ci ho perso perfino il senso vabbè ma guarda quanto è chi sto facendo non so quanto è chi sto facendo di fila guarda dove ha spawnato quello quello lì ma quello lì è ritardato c'è Anna Montana nooo e ora te la pigli in culo te la pigli in culo nooo non uccidermi scappa muori con la moab muori con la moab muori con la moab poi l'ha distrutto ho distrutto 50.000 elicotteri triplo uccisione solamente vabbè meglio che niente dai guarda là si spurano qua dietro si è preso nel petto anche tu 3,2 litri 3,5 litri se facevo se camperavo di meno magari la prendevo subito eh ci siamo ragazzi abbiamo finito anche questo live con media non so come si è potuta venire chi mi faccia ma guarda che mamma mia guarda che è proprio giusto in pratica io non ci stavo neanche proprio pensando troppo a questa moab no ma vedete vedete gli effetti live del mio modo prima eh salutiamo ora dietro le quinte della partita precedente si dai che siamo già a un bel po' eh bella ragazzi lo check team è tutto lasciate un bel like e beccatevi dietro le quinte e bella ragazzi e ora ne facciamo una anche su lockdown visione confermata yahoo tattica avete visto sto qua come come sono morto come sono morto come sono morto come ho fatto a morire che l'avevo visto ma semplicemente hai frankie mechia con le scene a 4 eh aaaaaaah aaaah 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 non muore questo non muore nemmeno questo muore di nuovo questo questo mi accoltella che ha scritto clown nel nome ma guardate questo con l'assassino fa schifo fa schifo fai schifo you suck fucking noob fa schifo connessione connessione eeeeee super ponzio ma vaffanculo va schifoso non parlate sempre ragazzi cioè è over 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 ma guarda come mi ha ucciso nel video giusti facili nemmeno no jambri giusto non no Grazie per la visione!